ciao a tutti da out of beat da toni sauffa oggi andiamo a recensire velocemente la infiniti dx 5 final che è la versione finale della su base nougat per questa rom poi lo sviluppatore lam 1990 del vietnam proseguirà o meglio inizierà lo sviluppo sulla base oreo quindi questa è la versione definitiva vi consiglio di andarvi a guardare la mia recensione sulla dx3 in quanto nel frattempo si stanno attivando tutti i dispositivi elettronici nella mia casa sembra quasi posseduta in quanto non scenderò nel dettaglio come nella precedente recensione che è durata circa una quindicina di minuti quindi vi farò vedere semplicemente quelle che sono un po le differenze macro qualcosa introdotto di nuovo come può essere questo pannello delle notifiche personalizzabile in questo caso ho scelto matrix ma potete tranquillamente e questo è un effetto che prima non c'era cioè si poteva personalizzare lo sfondo ma non con questo effetto già potete vedere qualche personalizzazione nella nel numero dei power toggle oppure nella posizione dell'orologio le icone dove sono state messe la personalizzazione qui in alto a sinistra toni sauffa questo è quanto già di base ho usato per personalizzare andiamo a vedere un attimino quelle che sono le caratteristiche della infiniti rom non ha un rom controlla tramite app separata ma integrato direttamente nelle impostazioni quindi andando qui abbiamo diversi comparti status bar notification panel display lock screen and security function keys extended power menu recent panel in colui advanced function menu and about credo che morettopoli che mi critica sempre per l'inglese in questo caso potrà essere abbastanza contento per la mia pronuncia status bar nella status bar andiamo a vedere tutte quelle che sono le possibilità di personalizzazione a questa rom permette una personalizzazione veramente infinita a livello estetico ma anche funzionale ci tengo a dire che è per me la migliore rom è gratuita purtroppo non è possibile donare all'am 1990 che è la prima cosa che farò non appena sarà possibile perché a differenza di altri farabutti sviluppatori che si fanno pagare non pagate nessuno donate ma non pagate allora ritorniamo a noi status bar status bar qui potete personalizzare i bottoni l'orologio ripeto andrò abbastanza veloce le icone quindi la personalizzazione del colore oppure aggiungere una barra di segnalazione della batteria il segnale e wifi che tipo di icone e posizione andare a scegliere le icone della status bar se volete personalizzarle o meno a livello di colore il testo del diciamo dell'operatore ma potete personalizzarlo con il vostro nome network traffic management ossia dove impostare l'iconcina del traffico io adesso ho messo il telefono offline per evitare che qualcuno mi rompa le palle status bar icon toggle ossia cosa eliminare per esempio vedete adesso io ho l'icona dell'offline se lo vado no questa è l'unica che non c'è in pratica se io va allora abilitando il bluetooth però adesso mi fa riavviare tutta la la uai quindi rischio di perdere la registrazione in pratica se voi non volete che vengano visualizzate l'icona della sveglia sulla barra di stato basta a fleggare qui e non verrà visualizzato dynamic status bar qui cambia il colore della status bar e potete scegliere se impostare un gradiente o il livello di intensità del colore status bar background qui nella status bar potete andare a personalizzare scegliere l'immagine ok e qui andate a scegliere l'immagine cazzo ne so quick peek vediamo se riesce ad arrivare ok vedete in alto è cambiata lo sfondo della status bar va bene perfetto andiamo avanti status bar notification panel qui è dove vi avevo detto che sono state inserite un po di novità e ve le spulciate per bene qui io ho scelto vedete il matrix effect che prima questo matrix effect era soltanto impostato nei nei recenti quando si abilitavano i recenti veniva visualizzato toggle setting quindi le animazioni vedete in questo caso allora adesso tolgo l'audio c'è la rotazione del toggle e potete tranquillamente andarlo velo a settare con la velocità le animazioni quanti toggle volete vedere in verticale e quanti in orizzontali siamo arrivati e toggle notification panel color qui per personalizzare i colori della notifica del pannello delle notifiche sempre di questo stiamo parlando notification data usage se volete visualizzare i dati usati in questo caso è questo qui vedete ok potete impostare anche il il colore o quel cazzo che vi pare si uso le parolacce quindi se c'è qualche puritano che gli da fastidio che uso parolacce può tranquillamente spegnere la registrazione e si vada a vedere un'altra recensione dici troppe parolacce ma va fangulo va gif animation qui per aggiungere una gif quando si abbassa la notifica vedete anche qui è stato introdotto rispetto alla versione precedente la possibilità di mettere delle informazioni sul sul device io questa roba la tolgo perché non non mi piace device ne parlavamo prima device info configuration qui potete scegliere anche i colori e che cosa visualizzare quick launcher tool bar qui potete abilitare il quick launcher launch tool bar che è una barra che permette di impostare le applicazioni non l'ho guardata benissimo perché in realtà non ho capito dove viene abilitata cioè dico dico la verità quindi non non ho capito dove compare mi dispiace ragazzi non posso sapere tutto carrier label che è sempre nel notification panel e other customization date format se volete il formato della data in modo diverso notification background shape e il multi user in alto se lo volete oppure no siamo arrivati al notification panel già ci sto mettendo troppo tempo display qui potete andare a modificare le animazioni la barra di navigazione il pop up di avvertimento che la luminosità è troppo alta o il volume è troppo alto lock screen and security qui abilitare il multi wall paper la torcia con il volume con il tasso volume lock screen rotation bla 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 insomma ce n'è di roba function case qui se bixi io ho impostato questo è molto comoda un click per uno screenshot doppio clic per aprire la camera pressione prolungata per il multi windows ovviamente viene disabilitato bixby stessa cosa potete fare per il tasto dei recenti il tasto home e il tasto back key mi trovo in questo caso io disabilito questo perché spesso mi capitava di schiacciare due volte per la home mi si apriva come io avevo scelto che facesse la camera extender power menu qui in fase di riavvio potete scegliere che cosa far visualizzare nella in quella in quel menu il pannello di recenti qui ve lo andate a personalizzare matrix effect oppure se volete un background di vostra scelta che tipo d'immagine che trasparenza in call uai ossia se volete mettere nella schermata di di numero se volete mettere in questo caso fare una chiamata ma ovviamente sono in offline adesso me lo di me lo attiva lo tolgo in pratica permette di permette di mettere un background nella schermata del telefono e non è il caso che io la imposti advanced function menu qui ci sono tutta una serie di piccole applicazioni e di test log e quant'altro sono dei collegamenti veloci che sono molto utili da avere about ovviamente ringraziamo infinitamente infinity creata da lam 1990 qui avete la possibilità di andare sul gruppo telegram e sul sul loro sul suo trade sul suo forum di riferimento io credo di avervi detto tutto doveva essere più veloce rispetto al normale ma è stata comunque quasi completa vi invito ad integrare questa registrazione con l'altra della infinity di x3 per avere tutto in modo più più corposo adesso passiamo al giudizio il giudizio di questa rom il mio giudizio si basa su è una rom cessa è una rom così così che non è cessa ma se la vai a scoprire forse ti potrebbe piacere è una rom super figa è una rom livello brothers e poi ho introdotto il non plus ultra c'è questo vediamo un attimo questo è il livello wow allora questa rom ragazzi è livello wow per se i ragazzi che stanno ascoltando hanno altri gusti non è un problema provvederò a mettere un uomo muscoloso da Tony Soff è tutto fate i bravi alla prossima e mettete un mi piace al video se vi è piaciuto grazie grazie a tutti